Questo video qua è un video che non ha idea di quanto sia importante, perché non ti spiega le cose che devi fare, ce ne sono già tante, ma ti spiega tutte le robe che combini, tutti i difetti, come li chiamo io, comunicativi, che tu crei con la ragazza a un primo appuntamento, piuttosto che quando te la presentano, o semplicemente quando ci devi parlare su Tinder o su Instagram, che non ti portano mai da nessuna parte, su proprio difetti che tu hai, e questi red flag, questi errori killer che hai nella comunicazione, che portano la ragazza ad annoiarsi. Per questo poi lei non ti rivede per un secondo o terzo appuntamento, perché si è annoiata, ha proprio i coglioni pieni, li sono cresciuti e li sono caduti. Quindi ci sono questi quattro errori che devi completamente eliminare, sono strani, ma sono molto strani, ma devi fare mente locale, segnarteli e fare caso a quando li fai e non farli più chiaramente, ok? Li ho segnati tutti perché poi ho messo alcuni appunti. Primo punto sì, non, questa è una cosa che fate tutti, non ampliare le risposte che dai, cioè è proprio un difetto. A volte mi chiedete perché Steve non riesco ad avere conversazioni come le tue, non riesco ad avere argomenti, perché banalmente non ampliate le risposte con dettagli. Cioè la risposta ti permette di far proseguire anche la ragazza, cazzo, nella conversazione, non ampliando di default con dei dettagli la risposta che ha appena dato, dicendole quindi a lei, commentate a New York, cazzo, sei andato a 20 giorni a New York, sì, ma bene, dai, è come nel film, è figa, ci sta, però preferivo Parigi. Cioè ti rendi conto che non serve a niente, non serve a niente una roba del genere, perché? Perché non stai ampliando con dei dettagli, cioè non stai immergendo la ragazza in una vasca, zeppa di ganci da poter prendere e poter utilizzare nella conversazione. Quindi che cosa fai? Rispondi sempre con una frase chiusa, con pochi dettagli, non la ampli, e la ragazza si trova costretta o a fare scena muta, o a non fare più domande, o a farti un'altra domanda, o a comunque essere frustrata. Il segreto di tutte le conversazioni di successo, ma anche quando scrivo monologhi comici, è ampliare i dettagli, ampliare la frase, ampliare la risposta, inserendo dei dettagli. Perché se io dico, mi è piaciuta New York, sai però a sette ore di volo è un casino, meglio Parigi, è un conto. Se io dico a New York, ti dico, non so da dove partire, è come nei film innanzitutto, la cosa che mi ha più incuriosito, oltre a sette ore di volo, che quelle sono proprio dannate, è stato X e Y. È stato il fatto che hanno questo e quest'altro. Do un'opinione, sai, là per esempio tutte le strade hanno questa roba qua, i grattacieli sono fatti in questo modo, le persone sono così. Cioè vai a creare tanti dettagli, tante lampadine nella testa della ragazza, che aiutano il dibattito, aiutano la conversazione. Perché da lì magari lei si ricorderà di quando è andata in vacanza a Dubai e hanno i grattacieli in un certo modo. Si ricorda di quando è stata trattata male a Parigi da un signore che lui ha chiesto indicazioni, si ricorderà X, Y e Z. È così che fluiscono. Ma se tu continui a dare risposte vaghe, chiuse, riceverai risposte vaghe, chiuse e soprattutto non avrai mai conversazioni soddisfacenti. Finiranno sempre tutte quanti in un lampo e ti troverai a essere costretto a dover girovagare, cercare altre domande perché non hai più argomenti. In realtà gli argomenti ce li hai, solo che li sviluppi in 10 secondi, mentre io li sviluppo in 5-10 minuti. E da New York aggancio tutto e piano piano si fluisce in maniera naturale verso altri lidi. Due, sicuramente parlare di lavoro e di quanto sei bravo. Quanto sei bravo nel lavoro, a lei non gli frega niente. Gli fregherà se in futuro ti chiederà un qualcosa relativo al lavoro. Ma quello di cui gli interessa a lei circa il tuo lavoro è come ti senti, perché hai scelto questo, cosa ti fa, cosa porta nella vita delle altre persone. Questo aiuta a farla immergere. Dirle che appena hai ricevuto una promozione guadagnerai 500 euro in più piuttosto che hai un team, hai un team, hai cinque persone sotto con il mio team, le persone che non gliene frega un cazzo. Sai cosa penserà? Penserà che sei uno spocchioso, colmo di ego, che sta cercando di fare l'impressione, una bella impressione, pur di portarsela a letto. È l'umiltà, specie quando ricopri o vuoi ricoprire o stai per ricoprire posizioni alte che conta tanto. L'umiltà, 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 l'umiltà cazzo. Cosa che non hai, cosa che non fai, quindi non devi vantarti. Ti vanti solo se c'è il reale motivo. A ragazze le piace leggere? Allora, magari stai leggendo, stai provando a leggere un libro alla settimana, tu dici che, guarda, il mio rapporto è un amore e odio perché mi sono messo come obiettivo, diciamo, questa pazzia di leggere un libro alla settimana, lo sto leggendo da sei mesi, è dura. Senti come l'ho detto, in maniera umile. Non ho detto, ah sì, no, ti capisco perché io ti dico, io leggo un libro alla settimana. Sì, è una cosa che faccio, mi amplia la mente rispetto agli altri che usano Netflix e io mi leggo i libri. Non va bene questa roba qua. Ti stai vantando, è una cosa che fate spesso, fate spesso nel lavoro, in tutte le altre abilità che avete. Tre, passare da una domanda all'altra senza approfondire. Questo è simile al primo, però è un altro discorso. Cioè, se lei ti risponde e tu le chiedi, ti piace viaggiare? Lei dice, sì, ho un sacco, ho fatto tutta l'Europa. E tu continui a fare domande. Ah, l'Europa dove? Lei, ah, sono stata a Parigi, sono stata a Lisbona, Madrid, X e Y. Ah, quel posto che ti è piaciuto di più? Cioè, sono continue domande. Le fate o no? Le fate o no? Le fate o no? Sì che le fate, piccolini, perché non vi formate con Play Lover. Se foste in una merdosissima coaching, se aveste fatto una coaching di un mese con me, o con un altro trainer, eravate completamente diversi circa questa roba qua. Cosa posso dirvi? Che quando buttate dentro una domanda, voi volete, vorrete, spero, da adesso in poi, sapere molto più rispetto alla semplice domanda. Cioè, se tu le chiedi, ti piace viaggiare? Lei ti dice, sì, amo viaggiare, sono stata appena adesso ad Atene. Tu vuoi approfondire il fatto del perché le piace viaggiare, il perché è stata ad Atene, perché ha scelto Atene, con chi è nata ad Atene, eccetera, eccetera. Non che passo da una domanda all'altra. Ti piace viaggiare? Atene? Ah, bene, come è andata? Bene. Per quanto riguarda invece il cibo, ti piace il cibo? Che cibo c'era? Per quanto questo, questo qua? Va, 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 perché è un'intervista altrimenti. E non deve apparire così, non deve apparire come un'intervista. Se appare come un'intervista è un problema, perché la ragazza non si sentirà a suo agio. La ragazza si sente a suo agio quando la conversazione con te, uno sconosciuto su Tinder, su Instagram o dal vivo, fluisce in maniera fluida, cazzo, fluida. Quindi che cosa devi fare? Devi dare un'opinione circa Atene, circa New York, e poi buttare su di lei, che poi possa essere una domanda in diretta, va bene, ma su quell'argomento, non faccio una domanda su un'altra roba, non funziona. Quindi di qua, insomma, tu lo sai che... Adesso è una cosa vera. Io dovevo andare ad Atene anni fa e ho perso l'aereo. E ti dico, mi è rimasto sto pallino. Hai completato tu la mia missione e adesso mi dici che è una merda e quindi ho fatto bene. In realtà credo sia tanta roba. Vedi come io ho creato un aneddoto, ho buttato dentro un qualcosa a cui lei può agganciarsi, perché magari lei ha perso un aereo, perché magari lei è successo questa cosa qua, perché magari lei è una molto prudente e va cinque ore prima, e quindi entro dentro un altro canale comunicativo. Il fatto di essere prudente e andare molto prima all'aeroporto, vedi? E poi ho indirettamente detto questa roba, ma non l'ho fatto, non ho detto Atene, poi passa un'altra domanda e poi un'altra ancora e poi un'altra ancora, perché non funziona, cazzo. Altra roba molto, molto, molto marcia che avete, ce l'avete tutti, specie quando entrate in confidenza, lamentarsi. Lamentarsi del tempo, lamentarsi del traffico, lamentarsi che non ha trovato parcheggio locale in cui ci siete, lamentarsi perché è X, lamentarsi della tua ex, lamentarsi della guerra, lamentarsi di questo, lamentarti. Nell'appuntamento, tutte le volte che le entri in contatto con te, non deve avvertire queste vibrazioni negative. Siete tutti negativi, voi avete tutti una mentalità negativa, ma se trasmettete questa mentalità negativa alla ragazza, ci sono dei problemi, perché lei vuole una persona leggera, almeno per l'inizio della conoscenza, una persona che non la pesantisce. Spesso e volentieri non si fa viva per prima, piuttosto che non vi invita fuori, piuttosto che non è intraprendente, tra i tanti motivi, soprattutto perché siete pesanti. Essere lamentini, ma anche in maniera leggera, purtroppo risulta pesante agli occhi della ragazza. Lei vuole leggerezza, quindi vuole vibrazioni positive, tutte le ragazze con cui sono stato, o con cui mi sono frequentato, mi hanno sempre detto questa cosa qua, cioè, me l'hanno detto anche proprio palese, mi hanno detto, cioè, Steve, una delle cose che mi piaceva è che tu eri sempre positivo, cioè, se, per realtà non lo sono, ma cerco di esserlo con loro, cioè, eri sempre, emanavi sempre vibrazioni positive, cioè, io quando avevo una brutta giornata, sapevo che dovevo uscire con te la sera, cazzo, era bello, perché? Perché sapevo che mi sarei rilassata. Questo fa la differenza. Ragazzi, state comprando come assassini l'offerta del Summer Tour per quest'estate, per venire in vacanza con noi. L'abbiamo riportata a prezzo di partenza, perché l'abbiamo riportata a prezzo di partenza? Perché? Per dare la possibilità a tutti di partecipare. Jesolo, Rimini, Milano, queste sono le date più gettonate. Avete la possibilità di imparare tutto quello che un uomo impara in una vita in tre giorni, o quasi tutto, sbloccandovi, soprattutto imparando ad approcciare e divertendovi. Ok? Per l'over Summer Tour, o al limite ci sono le coaching che vi state spolpando letteralmente. Fate qualcosa perché la vita è una, altrimenti rimanete sempre lo stesso identico punto.